Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. 23 gennaio lunedì. Buongiorno a tutti voi. Che cosa si scrive di noi all'estero? Cominciamo dal Nord Africa. Algeri e Co. dà il benvenuto a Giorgia Meloni, ieri e oggi ad Algeri, per rafforzare la partnership energetica dopo il calo delle forniture di gas da parte di Mosca. L'Algeria, scrive la testata locale, è una fonte sempre più importante per la terza economia europea, che poi siamo noi. Ormai, superato l'inverno in corso, la sfida ora è quella di mettere in sicurezza anche quello dell'anno prossimo, quello del 23-24. E, come rassicura già da mesi l'amministratore delegato di Enid e Scalzi, presto le forniture algerine raggiungeranno il 38% del fabbisogno italiano, che poi è la stessa quantità coperta dalla Russia fino a prima delle sanzioni. Già prima di Meloni, ricorda l'articolo, Mario Draghi era stato due volte ad Algeri. Algeri Focus, intanto, aggiunge che sul tavolo delle discussioni Italia-Algeria c'è anche tutta la questione dell'immigrazione clandestina e che i nostri due paesi stanno lavorando per individuare nuove forme per scoraggiare i flussi di migranti in partenza da quel segmento di costa nord-africana. E, rimanendo per concludere in Nord Africa, Espace Managère dalla Francia scrive che nel 2022 l'Italia è diventata il primo partner commerciale della Tunisia in termine di volumi di scambi e davanti alla Francia. Il vecchio è il nuovo volto della mafia italiana. L'articolo, dopo l'arresto dell'ultimo boss, è della Deutsche Welle dalla Germania, che ripercorre le diverse fasi dell'individuazione della cattura di Matteo Messina Denaro così come è stata ricostruita dalla procura di Palermo. Un arresto eccellente di cui Giorgia Meloni e l'Italia avevano un gran bisogno a livello internazionale. Sapere, per esempio, che la criminalità organizzata è meno forte Ora che riceviamo i denari del PNRR è un segnale importante. Deutsche Welle ricorda anche che proprio negli anni in cui a Berlino cadeva il muro cominciò a sgretolarsi anche il rapporto che la mafia siciliana era riuscita ad instaurare negli anni con ambienti della politica italiana. Una crisi destinata poi a sfociare come arma di ricatto nelle stagioni degli attentati di Cosa Nostra tra il 1992 e il 1993. E fu solo dopo l'arresto di Riina del 1993 che Messina Denaro, che ne stava prendendo il posto al comando, decise di inabissarsi al fine di portare in porto gli affari criminali ancora più remunerativi lontano dai clamori. Ed è ora che anche lui è finito che l'Italia, secondo Deutsche Welle, può ricominciare a camminare a testa alta. Intanto però da Londra Sky News non crede che la mafia italiana, che la mafia siciliana sia finita. E quindi si interroga su chi sarà il nuovo boss in quanto non crede che dopo 150 anni di attività l'organizzazione non sia in grado di darsi un altro capo. Chi prenderà dunque ora il controllo di Cosa Nostra? Secondo molti osservatori, secondo Sky News, il canale inglese, Settimo Mineo, 85 anni, ufficialmente gioielliere, attualmente in carcere per scontare una lunga pena, potrebbe riprendere il controllo da dietro le sbarre. C'è anche però il 64enne Giovanni Motisi, boss del rione Pagliarelli, latitante dal 1998, considerato ai tempi sicario più fidato di Riina, ma secondo alcune fonti potrebbe anche essere morto. In Lizza c'è poi il giovane Giuseppe Auteri, 48 anni, tesoriere del distretto più ricco di Palermo, latitante da un anno. Sebbene ridotta criminalità regionale, conclude l'articolo, dopo che l'andrangheta sia affermata a livello internazionale nel traffico di droga, Cosa Nostra conserva comunque un ampio potere di condizionamento su tutta la Sicilia. Dal Belgio WRT News torna sulle ipotesi che Papa Francesco sia prossimo a dimettersi e che in questo possa avere un ruolo importante padre Georg Genshwin, il George Clooney del Vaticano. Secondo l'articolo che, in proposito intervista il vaticanista olandese Andrea Vrede, l'ipotesi è che un gruppo di conservatori interni al Vaticano stia facendo pressione sul Papa per le sue dimissioni. Rinuncia che magari potrebbe concretizzarsi il prossimo 13 febbraio, fra meno di un mese, quando cadrà il decimo anniversario dell'abbandono storico da parte di Benedetto XVI. E a soffiare sul fuoco ci sarebbe proprio l'arcivescovo Genshwin, un uomo molto famoso in Italia, sia per essere stato, soprattutto per essere stato, il segretario personale di Ratzinger per 30 anni, sia, continua l'articolo, per essere il prete più sexy del Vaticano. E se i rapporti con l'attuale Papa sono sempre stati tesi, nel 2020 è stato definitivamente allontanato dal Papa, dal Papa Francesco, per avere svolto un ruolo considerato di critica aperta. Ora il libro autobiografico di padre Georg è campione di vendite, secondo solo a quello del principe Henry. Ciò nonostante il vaticanista olandese, intervistato nel servizio, considera l'ipotesi delle dimissioni solo una speculazione giornalistica. Cioè, non ci crede. Turismo, per concludere, nei mesi peggiori della pandemia, tutti, davvero, anche io, pensavamo che non avremmo più ricominciato a viaggiare per lunghi anni a venire. Fortunatamente non è stato così, già il 2022 è stato un anno record, nonostante ci fosse anche la guerra in Ucraina, e in Irlanda, a Dublino, si è concluso il discorso del concorso dell'independent sulle mete turistiche mondiali preferite dai suoi lettori. Avrete già immaginato perché ve ne parlo. Insomma, comunque, in gara c'erano luoghi ricchi di fascino, come Praga, Parigi, Edimburgo, Lisbona, capitali come Londra, come New York, dei sempreverdi, come Barcellona e Amsterdam. E volete sapere invece chi ha vinto? Lo immaginate, lo so. I primi siamo noi. Roma è la meta più sognata dai turisti irlandesi, tra cultura, monumenti storici, paesaggi ineguagliabili e cibo super wow. Gorgeous, scrivono loro. Evviva! Vi auguro una buona giornata. Ci aspettiamo, ci ritroviamo domani. Ristretto Italiano di Ruggero Po.